Musica E signori benvenuti nella seconda parte di Watch Dogs Bad World Abbiamo fatto una lunghissima missione d'inizio E qua abbiamo la seconda missione appunto Segnale in calo Vediamo di cosa si tratta Ah di una missione in secondaria Però nelle vesti della missione principale Ok va bene C'è un contatto telefonico Sì Sempre con Sheila Va bene ma fai attenzione Quei tizi hanno ottimi agganci Se così non fosse sarebbero già dietro le sbarre lo sai Qualcuno mi tiene le mani legate Perciò si tratta di amicizie molto in alto Il che significa Che avranno le migliori armi a disposizione Spero che sia così Non fare il duro Ti mando tutte le informazioni che ho su di loro Così saprai con chi hai a che fare Grazie detective Va bene allora Qua ci facciamo la famosissima missione non invitato Ma lo piazzammo Tutta quella serie di bombe Yed E facciamo un casino assurdo Vabbè cominciamo A vedere chi c'è e chi non c'è Tu non sei Tu nemmeno Tu sei uno E tu sei l'altro Tu esplodi Allora Punto abilità Ce n'ho due Combattimento Forse Resistenza e danni Ricordo che vanno atterrati i bersagli Non uccisi Riesco a passare di là Tanto ormai sta mappa qua La conosco benissimo Sto post Ticino Molto invitante Sono ironico Attenti alle spalle Oh oh Fermi Qui non c'è niente Via Non vedo niente Proseguiamo Ora guardo lì Sono in una posizione veramente brutta messo qua Ora guardo lì Via Ho detto prima io via Controllo lì Non c'era niente Controllo là giù Non c'era niente Controllo lì Poi dai coglioni Mi sta ammazzando Mi piace C'è Kino Non c'è niente Andiamo No Perché Perché sei salito Ma perché sei salito Ma perché sei salito Spiegami perché Spiegami perché sei salito Fammi togliere di qui Lancia una granata Vai Ci mandano lui apposta Perché sanno che Godo Vieni qui E ciao Ok Non è morto A posto Nuovo vestito ottenuto Buono Missione completata A posto Adesso mi devo fare tutte le missioni secondarie Sistemata Non hai perso Ok Il tocco uomo del mistero Ti ho inviato i soldi Come ti ho detto Se vuoi ho un bel po' di lavoro per te Ti farò sapere Atto primo Due missioni su tre portate a casa Bene così Vabbè Era abbastanza easy Andiamo avanti Grazie a tutti